Gentili telespettatori, buona giornata. Vediamo le ultimissime notizie sulle elezioni politiche del 2022, 25 settembre tra 18-19 giorni. La Meloni dice che le riforme saranno il più possibile condivise, con dialogo, ma cercherò di non farmi impantanare, ma senza farmi impantanare. E aggiunge che sono disposta ad attivare gli strumenti dai quali tutti si sentono garantiti per arrivare a una buona riforma, ma sia chiaro che non mi faccio impantanare. Vediamo qual è l'atteggiamento degli avversari. Io ho la massima disponibilità al dialogo per una materia sulla quale penso si debba intervenire coinvolgendo al massimo, ma con il presupposto che si debba intervenire. Lo dice la Presidente di Fratelli d'Italia dopo la registrazione di porta a porta, di cioè interesse a fare una riforma che sia il possibile buona e il più possibile condivisa. Vediamo come si comportano gli avversari e questo. Ad esempio, si propone il presidenzialismo e si dice, va bene, discutiamo tutti insieme che cosa si può fare. Se la sinistra si pone come aiuto, stanno distruggendo la democrazia, quando il presidenzialismo è stato proposto anche in passato dal centrosinistra, se il centrosinistra si pone nel cercare di ostacolare per salvare la Costituzione e la democrazia, allora lì non è un dialogo. La Meloni dice, io proverò. Se questi collaborano per una roba seria tra persone adulte, politici adulti, bene. Se fanno la solita scenetta, l'antifascismo, la Costituzione, allora andate a quel paese, le facciamo da soli noi del centrodestra. Questo è quello che sta dicendo Giorgia Meloni e sembra perfettamente condivisibile. Conte dice che il reddito di cittadinanza va rafforzato, non cancellato. Conte non ha capito che nessuno vuole cancellare il reddito di cittadinanza. Nessuno. Nessuno. Dice, la Meloni dice cancellarlo? No, la Meloni sta dicendo la stessa cosa che dicono gli altri, solo che lei lo dice in una forma diversa. Lei dice, lo cancello e lo rifaccio con un altro nome e con altre caratteristiche, mentre gli altri dicono, lo modifichiamo. È la stessa cosa. È la stessa identica cosa dove bisogna evitare il più possibile le truffe ai danni dello Stato e i fannulloni sul divano. Mettendo delle regole, il reddito lo riceverà chi ha più di una certa età e chi è impossibilitato a lavorare. Tutti quelli che possono lavorare, alzarsi dal divano, dalla sedia, dal tavolo e andare a cercarsi lavoro, come lo abbiamo fatto tutti. Tutti lo abbiamo fatto questo. Ma naturalmente Conte sta crescendo nei sondaggi perché ha il voto di scambio del reddito di cittadinanza. I fruitori crescono e crescono anche gli elettori del Movimento 5 Stelle perché chi prende oggi il reddito ha capito e sa perfettamente che se non governeranno i 5 Stelle molti dovranno realmente alzarsi dal divano e andare a cercarsi lavoro. E così lui invece dice dobbiamo migliorarlo, possiamo migliorare il reddito, non va cancellato, anzi va rafforzato. Rafforzato vuol dire ampliato, ampliato a più persone in modo che lui possa drenare ulteriore consenso. Meloni dice che Letta deve chiedere scusa alla Polonia perché Letta ha parlato di un'Europa di serie B con Ungheria e Polonia. Per me quella di Letta è un'affermazione gravissima. Loro immaginano l'Unione Europea come un club. L'attacco alla Polonia, ci metterei anche l'Ungheria, è gravissimo perché è la nazione più esposta con la Russia. Si fa avere a Putin il messaggio che a noi della Polonia non frega nulla, dice Giorgia Meloni, ospite a Porta Porta. In effetti il leader della sinistra, quelli che sono i buoni, i democratici, che dicono che c'è un'Europa di serie B, un po' come in Italia il PD si autodefinisce di serie A e la destra è di serie B. E allora per trasposizione anche in Europa c'è serie A, che sono quelli di sinistra, e tutto il resto è schifezza praticamente, serie B, C, D, E, F. E qui è il solito disprezzo dell'avversario, dove l'avversario non è il semplice e puro avversario, ma diventa un nemico da disprezzare. Questo è un atteggiamento assolutamente, a mio avviso, inaccettabile. Però questa è la sinistra. Renzi dice che l'endorsement di Trump al Movimento 5 Stelle naturale votarono decreti sicurezza. Meloni, non mi risulta che le sanzioni alla Russia non funzionino, sono lo strumento più efficace che abbiamo. Non mi risulta che se Alvini sia contro il tetto del gas. Lui dice priorità alle bollette, io dico che bisogna partire dalla radice del problema. Sulle sanzioni non mi torna che non stiano funzionando, qualcosa invece stanno facendo. Mosca ci metterà dieci anni a recuperare il PIL prima della crisi internazionale. Lo afferma la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ospite di Porta a Porta su Rai 1. Anche lui vuole un fondo di compensazione che è una proposta nostra prima della crisi internazionale. La foto con le mani nei capelli al forum d'Ambrosetti. Ho visto molti giornali titolari che l'ho fatto mentre parlava Salvini sulle sanzioni alla Russia. Falso. Non stava parlando Salvini quando ho fatto quel gesto. A meno che Salvini non faccia il ventriloquo. Quando ho visto la foto mi ha incuriosito perché in realtà Salvini era in silenzio. Per carità, abbiamo i nostri battibecchi, però montarli ad arte no. Quindi dice delle cose... Nel senso, quando ho visto anch'io quella foto ho detto, ma Salvini non sta parlando. Non so se la foto è stata presa prima o dopo o che cosa, però anche lì spesso la Meloni era con le mani nei capelli, ma credo fosse un gesto di altro genere, non perché stesse parlando Salvini. Anche perché se lo fai mentre parla Salvini risulta anche una mancanza di rispetto verso l'alleato che sta parlando e sta esprimendo le sue opinioni. Quindi in realtà pensandoci dopo due giorni dal forum di Ambrosetti, anch'io credo che in realtà la leader di Fratelli d'Italia non stesse mettendosi le mani ai capelli per le parole di Salvini, ma forse era un gesto di stanchezza o di altro. Mi sono realmente convinto di questo. Per quanto riguarda la Meloni che dice non mi risulta che le sanzioni alla Russia non funzionino, questo ve l'ho detto anch'io l'altro giorno. Sì, le sanzioni colpiscono anche l'Italia, colpiscono da tutte e due le parti. Gazprom fattura per tre volte, ma non bisogna guardare solo Gazprom, bisogna guardare il paese Russia, gli abitanti, quello che succede all'economia. Dire che ci stanno guadagnando col gas è una mezza verità. Sì, ci stanno guadagnando col gas, ma il paese ha un'inflazione che è tre volte quella europea e l'economia è bloccata. Questo è quello che dice la Meloni. Grazie a tutti, arrivederci a presto.